sta già andando tanto c'ha molta memoria allora riprendiamo carrucci che piscia let's go ma stefano ci ha fatto un bel regalo va beh questa risalita non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Mi andrà davanti così ti riprendo un po'? Vai. 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 In diretta. Vai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.